Stai con me, con un po', solo un voleto ti pagherò, solo un attimo di nostalgia, un attimo poi vai via, parli, parli, parli di cose passano, e poi sogni, sogni, sogni che poi sbagliscono. Stai con me, ci stai o no, ci stai un altro, un giorno, ci stai per essere ancora mia, oppure ci stai per non andare via, e tu dormi. Vabbè, stasera sono un po', metto un po' di vasco, però c'è una cosa che voglio dire. Allora, è una cosa un po' pesantina, quella che sto per dire, e comincio con una grandissima domanda. Ma a voi, voi che mi, voi che venite a vedere qua, iscritti e non iscritti, a voi sembra normale il tempo che c'è in questo maggio 2023? 2023? Vi sembra una cosa normale? Eh? Vi sembra una cosa normale questa roba qua, questo tempo che c'è? Allora, sono più di dieci giorni che c'è un tempo che potrebbe essere da fine ottobre e novembre. Il complottista che è in me. Allora, non è normale questo. Questo non è normale. Ma proprio per niente. Non è normale. Non è normale. E poi, vabbè, potrei parlare delle... delle... dell'inondazione in Emilia Romagna, ma... ma non voglio... Allora, chiunque viene qua, viene qua... non è normale. Ma non c'è bisogno. Non c'è bisogno delle esondazioni in Emilia Romagna. Ma accendete il cervello, fighe. Ma vi rendete conto? C'è qualcosa. C'è un intento. C'è un intento. Non voglio dire cosa dovete fare. Però, intanto cominciamo a capire che non è una cosa normale questa. Questa non è una cosa, no. Questo è un maggio che non c'entra un cazzo. non c'entra un cazzo col maggio in Italia. Poi in Islanda, non so, io non ho mai vissuto in Islanda. Però... Ah, il mio ragazzo sta arrivando. Devo fermare un attimo. No, non lo fermo. Eh, ragazzo. Sto registrando un video. Poi arrivo. No, no, tu fai quello che devi fare. No, no, puoi passare, non c'è problema. E vai a nanna e mi sembra anche giusto. Che bello è l'internet. C'era una classica di pallavolo. Ah, c'era qualche... C'era qualche figa. No, c'erano tanti puli belli. Ah, vieni, da pallavolo ci sono sempre tanti puli belli. Vieni qua. Vieni qua, saluta. Vieni qua a salutare. Fai così. Bella. Ciao, bella. Bel culo. Bella lui. Bellissimo. Finisco il video. Intanto... Un minuto, due minuti lo finisco. Ma a me non mi sembra una cosa normale questa. A me non sembra una cosa normale. Eh, però... Le persone... Sì, è strano, è strano. Ma è strano un cazzo. Questo è il manovrato. Non voglio vestire. Ce l'ho in canna, ma... Questo è il manovrato. E' manovrato. E' manovrato. Non è normale questo tempo. Non è normale. Non è normale per un cazzo. Non è normale per un cazzo. Questo vi... Questo meteo, un centro a cazzo, quelle cose normali. Comunque. Dai. Ho detto quello che devo dire. Vedete voi. Spruzzano. Spruzzano, 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 spruzzano. Complutisti. Sì. Complutisti, ragazzi. Aprite gli occhi, ragazzi. Buonanotte.